C'è uno va dai dottori, scriva, dottore io sto male, ho dei problemi, lei dottore lo guarda, dice allora la prima cosa che io veramente mi raccomando è che lei deve smettere di fumare, ma perché che ho dei problemi a polmoni? No, hai bronchi? No, e allora perché? E tutte le volte che vieni qui mi bruci il tappeto.